Oggi siamo qua su un nuovo gioco e forse forse su una nuova serie in compagnia di mio padre ciao perché siamo in compagnia di mio padre allora praticamente questo gioco si chiama never alone praticamente mentre scorrevo qualche gioco bello su steam si qualche gioco bello su steam no aspetta indietro qualche nome bello qualche gioco bello su steam praticamente ho visto questo gioco in cooperativa quindi non è come non è come se no perché l'avevo provato io a far partire cosa però non ho salvato visto che appunto è in cooperativa questa cosa mi ha veramente interessato perché non è come among the sleep che tu dici se te zitto come tu dici vabbè intanto che parla dai sta narrando la storia come tu dici among the sleep io giocavo lì cioè lui io gioco più che altro e lui guarda no invece no giro iniziano io con la tassiera ora si no perché io io capisco a voce ma voi no si si io pure la capisco perché io parlo della lingua natia dei degli schimesi e alla cattacchi su acto e cotonna vedi ma facevo pensato che il gioco dei popoli una brava cacciatrice la cacciatrice si ah ecco la volpe vedi l'altra era una brava ammottatrice vedi io vi sto dicendo intanto perché i giocatori erano prezzosi e beh ogni volta che dovevano attraversare il mare da dei ring a cattacchiatrice utilizzavano solo i rami di salice per il mare pensatelo porca miseria erano entrambi morti dei stessi impressionante dando il telefono trema c'era una volta c'era una volta due fratelli uno viviva sulla costa mentre l'altro io vado nella zona di kotzebue vado? si in teoria adesso ma se vate bene vediamo un po' che succede praticamente noi che giochiamo cioè io con la propria è un diverso ancora non lo so non lo so possiamo parlare loro di moria di tera per godersela veramente veramente io sa primavera tutto il video beh primavera più o meno però però c'è il sole un pochino che è successo ai sottimolino stanno a giocare lei sta cacciao io aspetta ecco vedete io sto muovendo la colpe e io muovo la ragazza vado penso ci saranno po' dei suggerimenti perché sto vedendo che si si è bella eccetera quindi credo la prima volta sì credo ci sono il letargo quindi dove siamo diretti non lo so non lo so bisogna rispettare gli animali ti aspetto guarda sei molto più veloce di me guarda che ci sta qua ah l'acqua che ci sta l'acqua ah si andano a piscare cos'è e come faccio per oh non lo so a nuutare dovremmo qualcosa ah ecco ho preso ho preso ho preso con la b merda io non sto morendo di freddo scusami ok eccomi devo rotare l'analogico praticamente ah ok io intanto sto tranquilla senza problemi devo fare così guarda roteare io intanto sto bella tranquilla guardatemi lì guardate l'anzellina ecco no questi che so che è una medusa che vabbè non lo so molto corrente qua infatti mi resta difficile ma come faccio scusami che fa veloce ti butto in acqua no e mi fa vedere se ce la faccio no sto preme ci provo eh no te ne vai aspetta risari sopra aspetta aspetta forse aspetta io provo ad andare sott'acqua no c'è proprio la corrente vedimi guardami eh lo so non è che muori no non lo so o ti prende la piorla interagisci con gli spiriti ah ok io sto scettando sinceramente questo è il shift dai evidentemente fa calma non ce la faccio ma non ce la faccio eh oh io sto shifstando ma non è che devi dalla no oh io non ce la faccio così ecco vedi lo sto portando lo sto trascinando vai armato ok aspetta di cosa stava fatto fare tirando e poi ha presa che però muori sei morta e allora come vedi eh tu non vuoi fare niente che va vediamo se fa faccia un idea aspetta tu toghi ti mettiti qua dove sto io e ritorna la donna la ora scelto vado giù e torno da qua non lo so rimaneva fissa al cielo che cos'è che abbiamo fatto ce l'abbiamo fatta ragazzi ce l'abbiamo fatta abbiamo passato dall'altra parte tutte cose belle e sali si sbria ok ha ridondito di cavolo comunque ora sappiamo che non dobbiamo fare più in quel modo poi c'è una rapide per cavolo ok non è passato è passato sono altri spiriti qua sotto in beh vai continua io non vedo non so come sta succedendo non capisco dobbiamo capire quando passiamo lì vediamo che succede così fatto è saltato solo scendi e perché no no aspetta continua continua e vai giù ha spinto la barca quindi dobbiamo passare per di sotto papi ma la barca adesso dov'è andata a finire voglio sapere sono lentissima da qua forse non riusciamo a passare non lo so vabbè intanto passiamo non ho capito vediamo che succede no la barca mi sa che dov'essi saltare no 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 troppo tardi perché sono vissuta sono morto dove cavolo siamo? è morta ah no 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 di là di là dobbiamo capire bene i tempi no perchè quello eh si perchè quello se il ghiaccio quando si è sciolto si è spaccato eh si se è passato quindi dobbiamo aspettare che si abbassa e poi si rialza capito? eh no va giù altrimenti questo è vero aspetta aspetta ok aspetta si oh no no rimane qui che è successo il tepolino? no ma poi sono degli scopi attenta non mi far diventare un'altra volta una cosa del genere che ti fisse aspetta no 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 devo muoverlo io dai vieni ah ok ah io sto accertando zio non è che devo fare io no? tu ah cos'è? è un po' che roba è quello? aspetta vieni su vieni su che lo spingo sotto vai magari è così che devo fare no no vieni su se no attenzio no qui ti uccide se no vai però possiamo rimanere ecco qui ah si mettono paura praticamente sono le murene quelle che sono vai 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 e li appiccio il vento vedi via oddio la corrente ok c'abbia si è fatto apposta allora vedi devi salire su, devi salire su cioè mentre fai sali su con una levetta semplicemente ecco qua, ce l'ha fatta sono abbastanza lentina io eh eh pur io guarda eh ma guarda io guarda tutto sto tempo di giulacqua, puo' purigelata ecco ragazze la volte era mia coppola di un'acqua puo' aspetta per me oddio ho che fortuna dobbiamo andare su credo quando ci stavamo e ci siamo portati giù dobbiamo andare su vediamo su facciamo la volta sopra andate a testa no ah io posso interagire con lo spirito eh spostalo no ma secondo me dovresti spostare no non ci posso eccolo ah ok oh ah per notare più veloce ah e in modo lo dice eh ah beh io posso per di qua oh attenta oddio non posso no 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 io non posso per di là eh oh attenzione no non ti prendi non ci arriva aspetta mi aspetta vai 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 aspetti aspetta attenta eh co space for si co space faccio più veloce ah ok continuo risanendo eh non è facile eh infatti io direi ragazzi che potrebbe essere no raggiungimi raggiungimi eh ci troviamo quanto da sopra non lo metto da sopra come primo episodio credo che possa possiamo fermarci qua anche perché mi sta piacendo questo gioco è molto bello se vi piace se volete che lo continuiamo lo continuiamo quindi con fatecelo sapere con molti mi piace con commenti eccetera perché se no ci arriviamo da soli ok semplice no quindi io direi che possiamo per questo episodio lasciate mi piace commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto la cucina ciao a tutti ciao a tutti